Dopo l'approvazione oltre un mese fa del rendiconto 2021 con tutta la coda di crisi interna alla maggioranza poi rientrate, difficoltà e rinvia al comune di Modica sugli strumenti finanziari ancora da approvare il silenzio regna sovrano. Almeno è questa la sensazione dopo che più volte l'amministrazione comunale aveva dichiarato di voler fare presti e approvare tutti gli strumenti finanziari per tornare in linea con i comuni virtuosi. Se lo chiede anche il PD tra i più critici sul fronte economico e non solo rispetto alle scelte dell'amministrazione comunale con il segretario cittadino Salvatore Poidomani. Del 2022 non ne sappiamo nulla. Sappiamo che per il 2021, se lo ricordate, c'è stato un parere positivo del Revisore dei Conti cosa è mai vista nella storia di Modica. Per il 2022, ecco proprio oggi è scaduto il termine per la seconda relazione che i Revisori dei Conti hanno dovuto fare e mandare alla Corte dei Conti. Sappiamo comunque che la situazione per il rendiconto 2022 è drammatica perché c'è un disavanzo di circa 17 milioni di euro perché come abbiamo detto più volte sono state cancellate 25 milioni di entrate farlocche, cioè di entrate false che erano state scritte falsamente in bilancio e soprattutto sono emersi debiti fuori bilancio per 5-6 milioni che negli anni passati i funzionari del Comune hanno nascosto. Quindi a giorni noi speriamo dovrebbero approvarlo. La cosa che stupisce di più è che loro, loro intendono, gli amministratori non parlano con la città e alla città, non informano e soprattutto che hanno dei tempi così lenti come se si trattasse di un Comune in una situazione finanziaria normale, Florida, invece noi ci troviamo in uno stato di predissesto, in un Comune con un riequilibrio finanziario e quindi non ci spieghiamo come mai prendano questi tempi così lenti. Ma come diceva lei, i modicani siamo pazienti, noi siamo pazienti, aspettiamo.